Ed eccoci qua, siamo arrivati in Via Alessi, zona di autonomia siciliana, per un appartamento meraviglioso. Che faremo? Per preparare l'home staging. Siamo pronti a organizzare l'open house. Presto, ciao! Benvenuti! Marco, dai, smettila che dobbiamo far vedere la casa. Un ampio salone, utilizzabile anche come studio. La cameretta è ampia e luminosa. Ragazzi, un panorama da paura! Da paura, da paura! 1. Sporrevivence a schifo. Arresti un carattacca. Usa la montagna di ripartà. E' ripartare l'assistio. 5. Capite il porto di ripartare. Anche a schifo. Coloco. Alimentare. 6. Monza rai. Avicokite la ruote. 5. Inolite la supportazione gruppa. Votre i bagno. 7. Statola. La classica camera matrimoniale con il suo balconcino. La classica camera matrimoniale con il suo balconcino. La classica camera matrimoniale con il suo balconcino.